L'anno scorso, il primo giorno di presentazione di questa campagna, stavo tagliando una pizza e per prendere tempo, c'era una cliente, ho cominciato a parlare. Sai, da oggi comincia la campagna contro la violenza sulle donne. Dobbiamo far conoscere l'importanza del 15-22. Questa donna si è messa a piangere, io ho visto lacrime scendere e credetemi è stato davvero difficile. E questa donna mi ha detto, scusami, hai toccato un argomento molto difficile per me, perché il mio compagno è diventato violento. Questa è una delle storie che la vicepresidente del gruppo Panificatori di Ascomo, Marca Trevigiana, ha raccolto in questi anni di iniziative contro la violenza sulle donne, che vede i panifici in prima linea con la pagnotta dell'abbraccio e i sacchetti con il numero 1522. Nonostante la forte testimonianza, a quella cliente Claudia Vedelago ha subito consigliato di chiedere aiuto. Io ho detto, non voglio sapere niente, però sappi che questo numero è a disposizione delle donne che sono vittime di violenza. Chiama, trova il coraggio di chiamare e di farti aiutare. L'ha più rivista poi? No, non l'ho più rivista. Non è facile. Non è facile anche perché ti senti coinvolta. Tante poi le donne che sono arrivate nel panificio di Claudia per ringraziarla di aver indicato loro una via per uscire dalla violenza. Un'iniziativa che anno dopo anno cresce passando dagli iniziali 1500 pagnotte prodotte alle attuali 2500. I colleghi ancora questa settimana produrranno la pagnotta a braccio perché la richiesta è ampia. Un successo che si manifesta anche nell'interesse dei clienti, donne sì, ma sempre più anche uomini. È diventato un oggetto di regalo, un regalo anche per le donne che lavorano in azienda. Quindi i datori di lavoro hanno comprato decine e decine di pagnotte da regalare alle proprie dipendenti. E anche quest'anno l'uomo invece è stato più sensibilizzato. Tanti sono venuti a prenotare la pagnotta. Partita tre anni fa dalla marca trevigiana, l'iniziativa della pagnotta arancione da 2024 varcherà i confini provinciali. Questo progetto quest'anno, da quest'anno dal 2024, diverrà un progetto nazionale. Non si ferma a Treviso ma andremo in tutta la nazione e spero che questa campagna rimanga e vada avanti tutto l'anno.